Signori, benvenuti al Toto Show, sigla! Eccoci qua, eccoci qua, oggi come avrete detto dal titolo, anzi ma prima, ricordatevi di supportare il canale, un'iscrizione, un mi piace, un commento e una condivisione, così al buio non sai nemmeno come sarà questo video, ma tu lo condividi, fidati del tuo caro amico Toto. E ora possiamo iniziare, cosa andiamo a vedere oggi? Appunto, come stavo per dire, come avete detto dal titolo, oggi andiamo a vedere un circuito dedicato al cardio da fare ovunque in soli 4 minuti, quindi sarà un circuito ad alta intensità, ovviamente da ripetere più di una volta. E come stavo dicendo prima, da poter fare in ogni posto, quindi anche a casa. Magari non è quello di fare la tua solita corsetta, puoi fare questo circuito, magari stai saltando il cardio in questo periodo perché non vuoi andare a fare la corsetta per non uscire di casa e quindi cosa si può sacrificare? Il cardio. O magari non hai il tapirbano a casa, quindi appunto non vuoi uscire, non puoi farlo nemmeno a casa. E beh, ecco a te la soluzione. Un circuito cardio da fare in poco tempo, ma con alta, alta efficienza. Bene, andiamo a vedere com'è composto questo circuito. Come stavo dicendo prima, la serie durerà solo 4 minuti, poi ognuno deciderà quante serie farne. Ovviamente dipenderà dal proprio livello di allenamento. È composto appunto da 4 esercizi con un minuto di lavoro per ciascun esercizio. E andiamo a vedere quali sono questi esercizi. Il primo esercizio è lo skip sul posto a ginocchia alte. Cerchiamo di alzare bene le ginocchia e di tenere una buona velocità di esecuzione. Il secondo esercizio invece sarà lo skip, sempre sul posto ovviamente, ma basso, quindi rapido e con piccoli passetti sul posto. cerchiamo di muovere bene anche le braccia per avere una buona coordinazione. Come terzo esercizio andremo a fare i bar peace. Questi ovviamente sono un po' più duri dei primi due esercizi, quindi magari se non si riesce a tenere un minuto di fila di esecuzione, magari fate 20 secondi, 10 secondi di pausa, 20 secondi e 10 secondi di pausa. Ovviamente 20 secondi di lavoro, 10 di pausa, 20 di lavoro e 10 di pausa. Come ultimo esercizio invece sarà un esercizio statico, che diciamo serve un po' a recuperare per la prossima serie, che è del plank. Qui diciamo che è un esercizio abbastanza tosto, non è proprio dedicato al cardio, ma comunque ci terrà attivi, ci permetterà di cominciare a recuperare un po' il fiato per la prossima serie. Perché finito anche il minuto di plank, andremo a riposare per 30 secondi. Sì, so che queste riprese non saranno il massimo, per vedere come sono le esecuzioni, nei bar peace non aveva potuto saltare, comunque non bene, sembrava un po' scemo, anche nello skip non si doveva bene l'esecuzione, però purtroppo, purtroppo il tetto è basso ed è una grande pecca della mia OMG. Niente, vi lascio il proseguo del video, era giusto per spiegare perché sembra conosciamo nei bar peace, perché non mi vedo bene negli altri esercizi e perché, perché, perché... Poi, come già detto, dipende ovviamente dal vostro livello di allenamento e dalla vostra decisione, in quanto cardio vogliate fare, fate a oltranza quante ripetizioni di questo circuito vogliate provare per credere. È abbastanza duro, non troppo duro, comunque, come per i bar peace, chi ha un livello basso di allenamento può fare la stessa metodica anche negli skip, magari 20 secondi di lavoro, 10 di pausa, 20 secondi di lavoro, 10 di pausa, e così via, giocare un po' con i secondi, per poter piano piano arrivare a un minuto completo, sempre con un'intensità maggiore. Quindi, detto questo, che dire? Spero che grazie a questo video eviterete di saltare il cardio, ovviamente avete una scusa in me, non c'è il modo anche di fare cardio senza uscire di casa. Quindi, ora che sei strassoddisfatto di questa notizia, puoi iscriverti al canale e ricondividere questo video. Prima l'hai fatto al buio e invece sai di cosa si parla e puoi condividerlo con più persone. E oltre le scemenze, spero che grazie a questo video, se qualcuno lo vedrà, piccola parentesi da sempre da rimarcare, dedicherai almeno 4 minuti al giorno per fare cardio, cioè un minimo di 4 minuti, poi si spera che ti faccia più serie di questo piccolo circuito consigliato dal tuo caro amico Toto. E niente, finito anche questo grande video del Toto Show, possiamo salutarci. Tu dovrai condividere questo video col mondo e, in ogni caso, sia che ti sia piaciuto, sia che non ti sia piaciuto, ci vediamo presto. E da Toto, basta che chiudo, signori.